Ok ragazzi, nuovo video, oggi voglio parlare degli esercizi che concretamente possiamo fare a casa in questo periodo di lockdown con pochi attrezzi per le gambe, che è il gruppo più insidioso e pensavo di fare un video dedicato a ciascun distretto muscolare proprio su questo argomento vediamo un attimino, comunque, allora, partiamo proprio dalle gambe perché è un gruppo un po' più ostico e voglio partire innanzitutto con un esercizio che tutti possiamo fare a corpo libero e che vi assicuro vi distruggerà, se lo fate bene, che sono gli squat bulgari, quindi i Bulgarian split squat fatti però con l'aggiunta dell'elastico, quindi molti non hanno magari a disposizione manubri o sono scomodi, hanno soltanto i dischi, non so, in questo caso ho soltanto i dischi quindi fare dei bulgari e caricare con i dischi risulta un po' più scomodo in questo caso l'utilizzo dell'elastico è molto molto interessante, innanzitutto perché è facile da utilizzare quindi faccio passare l'elastico sotto al piede, me lo metto sulla spalla faccio attenzione che il piede che va in accosciata non vada a frizionare con l'elastico quindi lo metto sostanzialmente sulla spalla opposta e in questo caso il vantaggio e l'elemento interessante dell'elastico è che va a avere un effetto di accommodating resistance ho già parlato spesso del resistance profile, ne ho parlato ampiamente sulla nostra academy, su Rhino Nation sostanzialmente quello che ho è una riduzione di quello che è lo sticking point normalmente nello squat bulgaro, come in tutti i formi di accosciata, tendo ad avere uno sticking point quindi un aumento di tensione a metà rom verso il parallelo più o meno ora in questo caso cosa succede? che quando starò in basso verso il parallelo l'elastico scarica tensione perché è un po' più accorciato ma man mano che salgo l'elastico tirerà sempre di più quindi man mano che salgo la tensione aumenta quindi se la tensione diminuisce da una parte per via della biomeccanica dell'esercizio è anche vero che aumenterà d'altra parte per via dell'elastico quindi sostanzialmente il movimento lo sentirò molto più fluido senza questo sticking point e la risultante sarà che sarà molto più facile per me anche psicologicamente per soprattutto i ragazzi che hanno un po' più difficoltà in questo andare sotto, quindi scendere bello profondo che è poi una delle peculiarità più interessanti del Bulgarian Split Squat ora in realtà con l'elastico non potrò aggiungere più di tanta tensione bene o male io personalmente con un elastico di quelli che utilizzo sulla pressa vado ad avere un 30RM circa quindi veramente un carico abbastanza basso ne voglio mettere troppi elastici perché sennò sostanzialmente mi seguo la spalla però è un'ottima alternativa nel momento in cui voglio fare un lavoro molto metabolico quindi ad esempio quello che io vado a fare in questo momento è un target response in cui voglio totalizzare un numero di 50, 60, 70 ripetizioni quindi mi metto là, arrivo a cedimento, riposo 5-10 secondi riparto altre 5 ripetizioni magari riposo di nuovo altri 5-10 secondi e continuo finché non arrivo a un numero che mi ero posto come target che di nuovo possono essere 50, 60, 70 o posso aumentare di 5 ripetizioni ad ogni nuova sessione e magari là quello che posso fare è inserire un'isometrica quindi quando arrivo al target scendo in basso e cerco di mantenere l'isometria per quanto più tempo possibile è un esercizio che è quad e glute dominant quindi è un esercizio che vede una sinergia tra quadricipite e gluteo l'intervento dei femorali è in realtà minimo soprattutto perché l'estensione che abbiamo dell'anca è soprattutto condotta dai glutei però al di là di questo è un esercizio abbastanza completo quindi posso sicuramente inserirlo nella mia sessione può essere un primo esercizio per congestionare per bene il distretto oppure un finisher molto molto interessante secondo esercizio lo squat in stop reps ora in questo caso dovete logicamente avere un rack un bilanciere e dei dischi e normalmente quello che succede in quarantena è che non abbiamo una larga disponibilità di dischi io in questo momento ho 140 kg quindi logicamente sono molto limitato in compound come lo squat in cui si carica normalmente tanto lo stacco neanche mi metto a farlo anche perché sto scaricando un po' il lower back per cui il consiglio è quello di lavorare sfruttare l'occasione per lavorare con delle stop reps ho fatto un post di Instagram quindi potete andare a leggere il post in cui spiego l'efficacia delle stop reps per quanto riguarda l'apprendimento dello schema motorio e anche uno stimolo ipertrofico molto molto interessante e molto importante il mio consiglio quindi è quello di utilizzare questa metodologia di esecuzione delle ripetizioni in cui scendo in basso e setto i pin del rack in modo da farmi arrivare a scaricare leggermente il bilanciere nel momento in cui arrivo alla fine del mio active ROM in questo modo io ogni ripetizione devo arrivare in quel punto specifico ora molto importante non sono dei dead stop quindi non voglio scendere a mo' di stacco boom e cascare e perdere tensione ma devo scendere, rallentare, accompagnare il bilanciere scaricare leggermente tensione in basso ma tengo tensione su glutei e quadricipiti e poi rimango magari un secondo sotto e poi sparo in alto la ripetizione in maniera esplosiva eseguo tutte le ripetizioni così il carico risulterà molto molto più pesante perché non vado a sfruttare il flesso mio tattico non vado a rimbalzare ma sarò molto molto più in difficoltà nel primo tratto in sostanza è come se fossero sempre delle prime ripetizioni la prima ripetizione era più difficile quella in cui devo staccare quelle sono tutte prime ripetizioni però prenderò bene nello schema motorio e sfrutterò il carico che ahimè irrisorio per molti di noi ho a disposizione in questo contesto di quarantena altro esercizio, terzo in questo caso dovete avere un CC squat ho messo il link, lo metto casomai qua sotto l'ho messo su Instagram più volte di quello che abbiamo comprato noi in realtà è una sedia romana CC squat in maniera impropria però parlo di CC squat perché normalmente si dice CC squat però realmente è una sedia romana come esercizio in questo caso fatto con elastici anche in questo caso ho messo un post su Instagram e il concetto qual è? è quello che con la sedia romana normalmente la problematica principale è che in alto non ho tensione perché sto sostanzialmente in alto ma la tensione aumenta nel momento in cui scendo aumenta il momento di forza quindi la leva e quindi i quadricipiti vengono coinvolti però logicamente quindi come alternativa la leg extension non è il massimo in effetti se ci pensate in casa non ci sono esercizi che mi possono permettere di avere tensione e massimo accorciamento sui quadricipiti quindi ricercare quello squeeze ecco l'utilizzo degli elastici è una soluzione che può essere abbastanza interessante non è ottimale perché logicamente per avere la massima tensione da avere un elastico che mi tira indietro o quantomeno dal bacino però comunque il fatto di metterlo in basso leggermente spostato indietro mi permette di avere bene o male una tensione in alto quindi da un punto di vista esecutorio il mio consiglio è quello di quando arrivo in alto posso strizzare i quadricipiti oltre la resistenza che mi dà l'elastico quindi l'elastico mi porterà a tenerli in tensione in cui io voglio strizzarli quanto più possibili e quindi fare ripetizioni magari con 3 secondi di squeeze oppure di nuovo posso fare un drop set facendo il lavoro con l'elastico poi togliendo l'elastico e continuando a corpo libero l'altro vantaggio l'abbiamo già detto nel Bulgarian è quello dell'accommodating resistance quindi in questo caso nel CC squat nella sedia romana ho più tensione in basso e non ho tensione in alto ma laddove non ho tensione per via della biomeccanica dell'esercizio l'elastico mi aggiungerà molta molta più tensione quindi anche in questo caso ridurrò lo sticking point e anche in questo caso è un esercizio comunque da fare sulle alte ripetizioni perché l'elastico più di tanto tensione non fa e il CC squat di per sé la sedia romana è un esercizio abbastanza semplice se lo facciamo a corpo libero e ultimo ma non ultimo il legcarl con elastico in questo caso io ho fissato l'elastico al disco che ho messo poi sotto il gradino rispetto al salone quindi in giardino mentre io stavo in salone in questo modo saremo sicuro che il disco non si avvicinava a me ed era bloccato comunque lo potete ficcare dove vi pare e in questo caso è una variante di legcarle in cui avrò meno tensione in allungamento sicuramente però avrò tanta tensione in massimo accorciamento quindi un resist profile che sicuramente non è ottimale ma mi permette di sentire molto bene sicuramente i femorali perché vado ad aggiungere tensione laddove sono più deboli per via della biomeccanica degli stessi quindi il muscolo quando è contratto riesce a esercitare meno tensione e esprimere meno forza quindi in questo caso tecnica che utilizzo e che vi consiglio sono i 10 quindi 10 ripetizioni 10 secondi di squeeze forzato di nuovo subito 10 ripetizioni 10 secondi di squeeze forzato e di nuovo altre 10 ripetizioni 10 secondi di squeeze e l'idea qua è che gradualmente devo riuscire a chiudere sempre meno il movimento perché realmente non ce la faccio quindi questi 10 secondi di squeeze in realtà alla fine sono un'isometria in metà rom e un'altra tecnica riprendendo il podcast che abbiamo fatto con Marcello può essere proprio l'isometria quindi io ho fatto una serie di 10's poi dopo mi sono messo ho fatto un'isometria di 3 minuti quindi mi sono messo in massimo accorciamento e gradualmente pian piano cedevo quindi in realtà è più un eccentric quasi isometric del TBDO però il concetto è quello di gradualmente non riesco più a tenere tensione e il vantaggio rispetto a un isold normale è che con l'utilizzo degli elastico man mano che perdo tensione quindi vado in eccentric allungo leggermente il muscolo l'elastico mi dà anche meno tensione quindi mi permette di tenere ancora di più botta e il cedimento è veramente esasperante e sentirò un forte accumulo di sangue sui femorali e piccolo consiglio quando fate questo tipo di lavoro alzatevi e fate 10 ripetizioni di legcarle immaginario quindi ipotizzando di stare su legcarle in piedi così a corpo libero a vuoto e sentirete un fortissimo pompaggio una fortissima congestione sui femorali questi sono degli spunti che potete utilizzare per le vostre sessioni di allenamento gambe a casa e vi assicuro se macinate tante ripetizioni sullo squat e aggiungete questi altri esercizi avrete un allenamento sicuramente completo che vi dà uno stimolo ipertrofico molto molto importante non serve troppo attrezzatura quindi dovrebbe essere la portata di tutti ragazzi piccola richiesta scrivete qua sotto nei commenti altri spunti dei vostri esercizi che fate per esempio per le gambe a casa noi stiamo raccogliendo tantissimi su Rhinonation dove ragazzi nel forum dedicato al covid nella sezione covid stanno postando i loro allenamenti io stesso propongo delle schede settimanali da poter eseguire quindi là abbiamo tanto materiale vediamo di scriverlo anche qua sotto nei commenti su youtube detto questo vi ringrazio e detto questo vi rimando al prossimo video